Tra due giorni compirò 38 anni. Per gran parte di questo primo quasi quarantennio di vita sono stato sovrappeso anzi, diciamo pure obeso. E lo sono tuttora solo che, da poco più di un mese, ho deciso di cambiare e di assumermi in modo serio la responsabilità del mio aspetto e soprattutto della salute del mio corpo. E' per questo che hai deciso di iniziare la dieta di Ucan? Esatto. La prima volta che ho sentito parlare di questo regime alimentare dimagrante è stato verso l'inizio di quest'anno. In quel periodo, la popolarità della di Ucan non era ancora esplosa come dopo il recente matrimonio di Kate Middleton col principe William. A parlarmi della dieta di Ucan è stata una mia amica che già la seguiva questo regime alimentare da qualche mese, con evidenti risultati positivi. Interessante. In passato, mi era già capitato di mettermi a dieta. La prima volta del ragazzino, seguito da un endocrinologo. La seconda una decina di anni fa, con il fai da te. E come andò a finire? Grazie. 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 Grazie.